In che maniera i carboidrati, i macronutrienti, ciò che tu mangi ogni giorno e ciò che ti dicono di mangiare lasciandoti lontano completamente dalla verità, va ad alterare il tuo umore? Informa senza fitness, il primo canale YouTube che ti permette di essere in forma senza essere più costretto a mettere il fitness al centro della tua vita. Sono il dottor Rispoli, sono il fondatore del progetto Sfera e ti assicuro che tu puoi arrivare al fisico dei tuoi sogni senza mettere il fitness al centro della vita. Oggi voglio farti capire questa cosa veramente poco compresa che però cambia totalmente lo stato della questione. Torniamo un attimo alle basi. Cosa ti dicono tutti i giorni? Devi comunque per dimagrire devi togliere un aspetto calorico, devi andare propriamente a abbassare i carboidrati, devi privare di certi tipi di situazioni e quello che ne consegue, lo sappiamo tutti, che tutte le persone vengono nel mio percorso e non ho già che hanno fatto questo tipo di percorso, quindi che hanno già avuto un deficit calorico, hanno già avuto una dieta, hanno già seguito nutrizionisti, dietologi, qualunque altro tipo di falso guru che non gli permette di arrivare al suo obiettivo ma solamente gli dona frustrazione e si vince dal fatto che un sacco di persone mi dicono questa cosa ogni singolo giorno, non proprio a me ma ai miei collaboratori. Quello che voglio enunciare in questo momento è che magari nessuno ti ha detto che ciò che tu mangeri altera in maniera totalmente quasi irreversibile il tuo umore. Che cos'è il tuo umore? È la percezione della tua realtà in base a un dato comportamento e in base a un dato ambiente. Tu sei o uforico o maledettamente depresso in base a ciò che tu come vedi, la tua realtà. Come vedi il tuo ambiente che ti circonda e chi ci sta dentro ti rende immancabilmente stra-uforico oppure depresso. Questa cosa non esiste ma è la tua percezione di questa situazione che ti fa vedere o in un modo o in un'altro secondo quello che è il carattere di ogni persona. Come però i zuccheri, i macronutrienti, gli omega 3 e il propriamente fare la dieta altera questo tipo di situazione? Beh, voglio parlare di tre situazioni. La prima per quanto riguarda ovviamente gli zuccheri, quindi ad alto indice glicemico. La seconda per quanto riguarda i grassi e gli omega 3. La terza per quanto riguarda il vero e proprio concetto di dieta. Allora, incominciamo dai primi due perché il terzo è un po' più corposo come argomento. Il primo parliamo degli zuccheri. Tutti sappiamo che esistono tre macronutrienti, i primi zuccheri, grassi e proteine. Ma questo ovviamente lo sappiamo tutti e tu lo sai molto meglio di me. Ciò che però nessuno ti ha detto è questa situazione. Allora, gli zuccheri. Molte persone demonizzano gli zuccheri e dicono che non tu non li debba mangiare per dimagrire. Chi è nel mio percorso sa molto bene che alla sera si mangiano carboidrati. Non è assolutamente detto che tu la mattina debba fare una colazione propriamente glucidica. E questi falsi miti sono già stati scardinati da tempo. Però se è la prima volta che mi segui oppure se ancora non sei nel mio percorso ovviamente dati una mossa però giustamente è giusto che tu debba conoscere un certo tipo di situazione. Ora, come gli zuccheri altrano il tuo umore? Beh, intanto tutti gli alimenti che ti danno della serotonina, della dopamina o qualcosa di piacere istantaneo come se fosse un fiammifero come ti danno questo piacere te lo tolgono con un drawback molto velocemente. Quindi passi da alterazioni dell'umore, da ofeoria a veri e propri stati di ansia e depressione. Questa cosa può dare uso a binge eating, fame nervosa quindi ti costringe a mangiare da solo, di notte, fermo e quindi non sapere neanche quello che hai mangiato per ritrovarsi in una completa insulina o resistenza un po' diciamo acquoso e a fare un effetto yo-yo in circolo vizioso perché il giorno dopo cerchi di mangiare meno e vai al terocarbo. Tutto questo è totalmente sbagliato e lo sappiamo già molto bene. Io tutti i giorni parlo di queste situazioni in diretta perché un sacco di persone me lo chiedono tutti i giorni di dirlo ed è quasi destino che oggi sia qui a fare anche questo video. Quello che noi dobbiamo capire è questo che tu sei una persona che sicuramente vuoi arrivare al tuo obiettivo sei una persona che ha già fatto di tutto e proprio per questo ti voglio esprimere questo tipo di concetto. Togliendo gli zuccheri, tu dici ok cosa faccio? Tolgo gli zuccheri e dimagrisco. Questo è il grande problema di fondo. Togliendo gli zuccheri automaticamente cosa succede? Vai in uno stato di ipoglicemia perché non lo sai fare, nessuno ti ha spiegato come farlo e immediatamente ti trovi a mangiare troppo e quindi tagli, non sai come fare pensi che sia solamente un discorso di indice glicemico basta venire nel mio gruppo per capire immancabilmente che l'indice glicemico non serve assolutamente niente. E quello che ne consegue è capire poi che questo stato di produzione di corpi chetonici che ovviamente non vengono prodotti solo quando tu vai in uno stato di alterazione e vai verso la chetosi ma vengono prodotti vita natural durante e ringraziando il Dio dal tuo corpo anche in maniera abbondante però diciamo che questa alterazione tra i corpi chetonici provoca quasi una sopia ubriacatura del tuo sangue e del tuo corpo che fa sì che tu abbia degli stati euforici dati appunto da questa ubriacatura come se avessi mangiato tanti carboidrati che praticamente hanno un drawback che fu in depressione. L'ultima cosa da fare per persone che hanno ovviamente dei problemi a livello alimentare di binge eating, di bed e quanto è fame nervosa è immediatamente quindi qualunque tipo di patologia alimentare è togliere i carboidrati in maniera continua a zero senza un perché. Altro discorso sulla parte dei grassi un cattivo bilanciamento da parte degli omega 3 e gli omega 6 è troppo acido arachidonico una dieta che tenda troppo al colesterolo quindi parliamo di grassi in questo momento di lipidi un altro macronutriente estremamente importante fa sì che tu possa avere dei caldi di memoria dei deficit cognitivi una sorta di poca non dico disturbi bipolari perché un disturbo bipolare può essere dato anche una vera e propria mancanza di attenzione verso qualcosa però non voglio essere così cattivo però a lungo andare avere un cattivo bilanciamento per quanto riguarda omega 6 e omega 3 quindi sulla qualità dei propri grassi entrambi sono grassi ma hanno delle peculiarità completamente diverse fa sì che tu possa immediatamente non essere conscio di riuscire ad arrivare al tuo obiettivo ti vai a giudicare su quello che sono i tuoi errori ma nessuno ti ha detto che ciò che stai mangiando sta inficiando il tuo non obiettivo quindi il tuo risultato è completamente scadente arrivando al terzo punto che è appunto il fattore dieta si è dimostrato degli studi scientifici hanno dimostrato questo che quando io ho scritto il mio libro mai più dieta non l'ho scritto a caso perché non sapevo cosa fare e volevo un titolo clickbait affinché tu l'acquistassi questa cosa fa molto bene e ovviamente è best seller su amazon ma non sta a me a dirlo quello che io volevo che la gente aprisse gli occhi se fosse così facile fare la dieta e fosse così semplice tutti lo farebbero tutti avrebbero risultati non ci vorrebbe un coglione come me che scrivesse un libro quindi io non è che mi sono messo lì a scrivere un libro che non sapevo cosa fare ho voluto solamente mettere in luce mettere in atto il fatto che la dieta non funziona perché si è visto questo è uno studio fatto sui topi ma cavolo io lo vedo tutti i giorni negli umani che togliere gli alimenti negativi esempio una persona viene da me mangia solamente junk food o mangia propriamente molto junk food oppure non ha una corretta alimentazione per me sarebbe molto facile dire smetti di mangiare questo mangia quell'altro ma come io spiego nel mio libro abbiamo due fasi ok due fasi per quanto riguarda il cosa fare ma nel corpo avvengono tre fasi la prima è un meccanismo di azione la seconda è un meccanismo di protezione e la terza è di sostenibilità che racchiuso in un concetto molto più semplice vuol dire ciò che tu fai all'inizio deve essere sostenibile anche dopo togliendo i meccanismi di protezione del corpo dalle omenstasi questo è ti potresti anche segnare questa frase tranquillamente nel mio libro mai più dieta ho segnato 5 passaggi nel prima parte 5 passaggi nella seconda parte solamente facendo la prima parte di passaggio che cos'è allinearsi al fatto di voler fare una dieta tu non puoi arrivare diciamo che mangi solamente junk food a togliere tutti i junk food e mangiare solamente alimenti sani perché avresti le stesse problematiche di un drogato che cerca poveretto di distogliersi dalla sue fazioni di agenti stupefacenti quindi si vuole disintossicare andandosi a disintossicare in maniera troppo netta da un agente quasi patogeno come fosse il junk food a un agente perfetto come un alimento lean immancabilmente hai gli stessi sintomi di carenza quindi come un drogato che magari ha degli aspetti di indipendenza cronica sta male quindi stai molto peggio rispetto a quello che credevi quanto puoi andare avanti uno, due, tre giorni e poi hai fatto io e poi torni indietro e poi non ce la fai e poi dai colpa a chi ti ha dato la dieta e ovviamente hai ragione perché non ti ha fatto capire che ciò che tu dovevi mangiare e lo sapevi già tu non dovevi rivolgerti a chissà chi per sapere che devi mangiare pollo, riso, gallette, fesa patate, merluzzo, salmone e sgombro questo era molto facile tu leggi tutti i giorni e sei meglio di me spesso le persone che non hanno buoni risultati conoscono tantissimo dell'argomento quello che però nessuno ti ha detto è che devi fare un passaggio completamente graduale e la prima cosa che devi capire è allinearti al fatto che lo puoi fare non togliere immancabilmente il junk food ma dare una sorta di scalata come fosse un farmaco perché questi alimenti aumentano il tuo senso di bliss point che ho comprato il mio videocorso Vangelo queste cose sono un'ulteriore riprova di quello che ho detto là in maniera molto più estesa sia in podcast che in video per ore e ore e ore ma non voglio assolutamente divagare questo è un altro discorso quello che tu devi capire è che aumentando il senso di bliss point l'azienda, l'industria vuole aumentare questo senso di dipendenza tua dalla serotonina dalla dopamina dato da questi alimenti e quindi aumenta la tua voglia di mangiarli immancabilmente togliendoli in maniera netta hai un senso completo di dipendenza quindi tornando alle basi di questo video quello che non devi fare è prima di tutto toglioti a zero i carboidrati rischiando un'ipoglicemia un senso di euforia da un'ubriacatura da parte dei corpi ketonici per poi trovati in un drawback e depressione quasi come un disturbo bipolare in secondo luogo ok uguale sul discorso bipolare per quanto riguarda i grassi ok la parte dipidica è fondamentale il rapporto omega 3 omega 6 deve essere assolutamente bilanciato per non incorrere in deficit dell'attenzione in terzo luogo smetti di fare la dieta allineati al fatto che lo puoi fare fai tutto in modo scalato e fate seguire da persone che ti hanno già dimostrati con recensioni libri e testimonianze di poter fare questo anche in persone che non devono per forza fare gare o hanno un fisico da copertina e soprattutto anche quando il covid ci manteneva tutti a galla dentro un limbo in una realtà che non sembrava quasi nostra quindi se le persone alle quali ho avuto le testimonianze il piacere delle recensioni le hanno avute proprio durante il covid quando la loro realtà era letteralmente alterata e le patologie potevano sicuramente prendere sopravvento sono stra sicuro che anche tu potresti fare un grosso passo avanti se in maniera molto decisa mettessi solamente un passo dentro la porta entrassi in fitness illusion e capissi già senza passare da me come tutte queste persone ce l'hanno fatta in che modo contattandole direttamente ora immagino che tutto questo lasci sempre un senso di paura un senso di sconosciuto ma rimanere fermo in questo momento è vera e propria decisione di non voler riuscire quindi hai due scelte o decidi consapevolmente di non voler riuscire chiudi la porta lasci passare il treno e tutto rimarrà uguale perché nessuno diciamo ha mantenuto le promesse nulla hai cambiato e se continuerai a fare le stesse cose nulla cambierà invece investi queste stesse risorse nell'entrare provare ricevere materiale gratuito e parlare con i clienti senza abbassare da me la domanda che ti voglio fare è posso contare su di te?